E sulle riforme costituzionali, dopo l'intervento di Beppe Grillo, che diceva siamo sempre stati contrari a questa riforma, siamo per il Senato elettivo, è stato pubblicato poco fa un post a firma del senatore dei Cinque Stelle, Vito Crimi, dal titolo La Tela di Napolitano. Qualcuno dovrebbe spiegarci perché il senatore Giorgio Napolitano non vuole che il futuro Senato della Repubblica sia eletto dai cittadini. Si legge nel post.